E' uno a due giorni che si tiene a Silvi in Abruzzo, uno a due giorni di congressi macroarea centro per parlare di quella che è la nuova frontiera sul vostro settore con esperti di caratura internazionale anche con delle conferenze molto interessanti. Tutto quello che c'è di nuovo nell'imaging cardiovascolare viene portato alla conoscenza dei soci. La grande partecipazione è la migliore testimonianza del risultato. Dopo Padova c'è stato questo di Silvi Marina e poi andremo al sud a Villa San Giovanni Reggio Calabria. Quindi questo è per portare quello che c'è di nuovo. Dall'ecocardiografia si è passato ad avere dentro quello che è la diagnostica cardiovascolare non invasiva, la TAC, la risonanza magnetica e tutte le altre metodiche di supporto che facilitano l'operatore nella diagnosi definitiva. Questo è il frutto di un grande lavoro fatto in tanti anni. Avere riportato in Abruzzo per la prima volta un convegno così importante è anche un segno di riconoscimento per tutta la comunità abruzzese che in questi anni si è dato molto da fare per cercare di portare l'ecocardiografia a livello nazionale. Quindi siamo molto orgogliosi che questo evento sia tenuto a Silvi, si sia tenuto anche in provincia di Teramo. Facciamo ogni tanto un po' di tifo perché è un riconoscimento al lavoro di tantissimi giovani e di tutti noi. L'impronta che abbiamo voluto dare a questo convegno è che non si parlerà solo di ecocardiografia, ma si parlerà di imaging integrato. Adesso il cardiologo non potrà fare più o meno, oltre che dell'ecografia, dell'attack, della risonanza e quindi questo è l'aspetto più importante. Noi adesso stiamo collaborando anche con altri specialisti. Non vogliamo invadere delle competenze specifiche, ma sicuramente il cardiologo non dovrà fare, ma dovrà saper leggere un attack, una risonanza del cuore e questo, ripeto, è di un'importanza fondamentale per lo studio di queste patologie.